Anche l'Inter perde contatto, complice alla sconfitta di Bologna. Contro le squadre milanesi il Bologna offre di solito le migliori prestazioni del suo campionato e anche oggi nel confronto con l'Inter la regola ha trovato conferma. La rete decisiva è di Giuseppe Savoldi, fermo a tre reti dopo le prime 16 giornate.